Centinaia di permessi di soggiorno illegittimi rilasciati grazie a documentazione predisposta fittiziamente da una vasta organizzazione che utilizzava a questo scopo studi di consulenza catanesi e messinesi. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Catania. Sono finiti in manette in quattro. Si tratta di Gaetano Augeri, 66 anni, titolare dello studio di consulenza UCAT e organizzatore dell'associazione, secondo gli inquirenti. Nicola Ciccia, 44 anni, collaboratore del primo, quindi dello stesso studio UCAT di Catania. Andrea Venturelli, 45 anni, titolare dello studio contabile ACAI di Catania. Infine Antonio Triolo, 68 anni, responsabile dello studio di consulenza Union Commercio di Barcellona Pozzo di Gotto.